Get down, get down Get down, get down Allora, com'è questa Sardegna? E com'è che vuoi sapere? Beh, lì è pieno di birra, no? Sì, è pieno di birra pastorizia, ma non puoi entrare in un locale con una capra o breacarti a sfasciare tutto. Insomma, ti lasciano bere da tante parti, ma è bello farlo in posti ben precisi. Ossia, i cilleri. Sì, la faccenda è così, ascolta. Puoi bere superalcolici, puoi bere bottiglie da 66 e puoi bere anche da piccole bottigliette che loro chiamano birrini. E' una cosa meravigliosa, ma questo non importa, perché sentimi bene ora. Se sei straniero ed entri in un cilleri, ti pagano da bere. Insomma, ti offrono la birra. Ehi, amico, ci vado subito, non ci sono santi, cazzo. Lo so che ti piacerebbe, è bello. Ma lo sai qual è uno dei paesi più belli della Sardegna? Qual è? Vaonei. Insomma, lì è tutto meraviglioso, solo con delle piccole piccole differenze. Cioè? E la mattina prendi fresco nella tua casa sul mare e la sera scorazzi per le montagne. Montagne fighe, con alti piani, chiesette o aesini. E le spiagge? Porca puttana, tra le più belle del mondo. Sai come chiamano la pardule a Baonei? Non pardule. Hanno uno dei dialetti più belli dell'isola, porca miseria. E come la chiamano? La chiamano Seadas. E le Seadas come le chiamano? Beh, le Seadas sono le Seadas, le chiamano Sebadas. Sebadas. E il pane carasau? Quello lo chiamano pistocco. Lo sai cosa ho mangiato una volta in uno vive? Che cosa? Formaggio coi vermi. Ah, che schifo. Ti giuro, gliel'ho visto fare, cazzo. Quei vermi sono buonissimi. Ah, dovremmo avere delle rosoe per questo. Che cosa avranno? Formaggio, corda. Anche affettati? Non ne sono sicuro. Allora vuol dire che potrebbe esserci anche prosciutto. Sì, è possibile. Dovremmo avere delle rosoe, cazzo. Allora vuol dire che potrebbe esserci anche prosciutto.